dovuto al Padre Eterno, se la sanità non funziona è perché non arrivano soldi, se siamo in dissesto idrogeologico è per colpa del maltempo, se ci sono le discariche abusive e se siamo pieni di monnezza è colpa di qualcuno, non è colpa di nessuno. La classe politica che sta governando questa regione da 40 anni e che continua a presentarsi, questo è l'elemento di ritorno, diciamo ai calabresi che io sento sempre lamentare in campagna elettorale, poi guarda caso le persone, i politici che sono maggiormente criticati nel corso della gestione in campagna elettorale prendono sempre più voti, perché? Perché l'elettore calabrese si fa prendere sempre dal presunto bisogno, e non sto parlando del disoccupato, ma io vedo che ha bisogno il presidente dell'ordine professionale, il plenario, diciamolo chiaramente, come si raccoglie il consenso elettorale in Calabria, lo vogliamo dire se no, che è un consenso elettorale attuato con metodi mafiosi e clientelari. Ci torniamo subito, pubblicità. Se facciamo poesia, facciamo poesia. Ci torniamo. Grazie.